Ok, facciamo qualche altro problema. Ho un numero pari a 38 palline che voglio distribuire in due scatole in modo che in una ce ne sia il triplo di quanto c'è nell'altra. In una scatola c'è il triplo dei palline dell'altra. E ne ho 38. Come devo distribuirle? Quante le metto nella prima e quante le metto nella seconda? Qui abbiamo 38, nel palline totale 2 le scatole e 3 il rapporto tra contenuto in una e contenuto nell'altra. Ok? Che cosa mettiamo come incognita? Qual è l'incognita? Il numero di palline in una scatola, per esempio in quella dove ce ne sono di più. Sì. Nella scatola 1 ci sono x palline. Ok? x le metto nella prima scatola, quella più abbondante. Se ho x palline nella prima scatola, quante sono i numeri di palline nella scatola 2? 2. Prego. 38 meno x. Se ne ho messe x nella prima, nell'altra ne mancano il totale meno quelle che ho messe nella prima. Dopodiché, devo scrivere un'equazione che traduca in simboli il fatto che la prima scatola contiene il triplo di palline della seconda. Cioè, il contenuto della prima scatola che è x deve essere uguale al triplo, tre volte quello della seconda. Ok? Prima scatola, il triplo della seconda. Adesso togliamo le parentesi. 3 per 38 14 2 9 2 11 14 meno 3x Ditemi se faccio qualche sbaglio. Adesso porto il 3x a sinistra. Ok? e ottengo 3x più x uguale a 114. 3x più 4x 3x più 4x e qui ci sono dei guai. . . . . . . apriamo un dibattito c'è chi dice che è sbagliato cioè che ho sbagliato i calcoli ho sbagliato i calcoli prima osservazione seconda ho sbagliato l'espressione di partenza cioè l'equazione altra obiezione le palline sono tagliate posto che non taglio le palline non si possono dividere il problema è falso? il problema non ha soluzione certo con queste palline non posso in alcun modo mettere in una scatola una quantità che sia il triplo dell'altra non sempre è un problema a soluzione o meglio la trovo ma è una soluzione che è priva di senso posto che non taglio palline a metà perché? perché la soluzione se c'è la x necessariamente appartiene a un insieme si chiama campo di esistenza delle soluzioni che tipo di numero devo trovare? se trovavo meno 7 andava bene? no non posso trovare né un numero negativo zero in teoria poteva essere né una frazione devo trovare un numero naturale e questo invece non appartiene al naturale ergo il problema non è risolubile non ammette su funzione attenzione quando ho ottenuto la soluzione devo sempre chiedermi questa soluzione ha un senso o no posto che non ho fatto errore di calcolo o errore di impostazione la soluzione va meditata va di acusa va pensata già rifletto ci sono e se mi dite 57 mezzi punto questo esercizio è sbagliato vedete questo numero non ha senso è tutto chiaro? proviamo vado avanti un libro costa in due terzi del prezzo di un cd è un libro piccolo sapendo che la spesa totale è di 30 euro quanto costa il cd? ripeto libro 2 terzi del cd 2 terzi del cd qui la scelta di un cd è facile x chiamiamo il costo del cd giusto? detto questo il costo del libro è 2 terzi di x x presta il cd il libro sono posti a 2 terzi del cd il cd è x il libro posti a 2 terzi di x il costo totale quando vado alla cassa e pago pago il libro 2 terzi di x 2 cd e la cassa della b chiede 30 euro sommo due tanni simili e ottengo 5 terzi di x deve fare 30 x 30 x 3 15 il cd costa 18 euro ok? ok? buona 2 terzi di 18 o la differenza con 30 per gli amici 12 euro quanto fa 2 terzi di 18? 18 diviso per 6 per cui 12 no 2 terzi di 15 ah no ma ci sono il senso facile il libro è 2 terzi di 10 dì non del totale ma ci sono 2 terzi di 15 o o ok? 2 terzi di 15 20 3 4 6 1 il il Grazie. La scuola elementare la maestra ha in classe 17 alunni. La scuola organizza un'attività e vuole separarli in due gruppi, in modo che un gruppo abbia un numero di bambini doppio dell'altro. Gruppo uno, due volte, quanti bambini sono nel primo gruppo e quanti nel secondo. Qui la scelta è abbastanza semplice. Se il gruppo due, in questo caso, condiene x bambini, allora il gruppo uno è 2x. del gruppo uno è il doppio del gruppo due. e il totale, bambini del gruppo due più bambini del gruppo uno deve fare 17. Prosto che la maestra non piaccia con la mannaia, cosa, ahimè, risuolta il problema ma è drasticamente irreversibile, il problema non ha soluzioni. La maestra deve cambiare strategia, fa un'altra attività e manda a casa i bambini interi. Cosa che Giova... Ok? Stesso motivo di prima. Perché ottengo un risultato frazionario che non è ammissibile come risposta per il numero che cerco. tagliare i bambini in tre parti e secco. Ok? Ok. Allora, ecco Allora. E Allahu! Allora, ecco Allora, ecco Allora, ecco Amma! Allora! provate a fare questo a casa Allora, il mercoledì lo zaino di Luca è più pesante di quello di Paolo Beh, adesso l'ho detto così rimane e dopo ve lo dico Il mercoledì lo zaino di Luca è più pesante di quello di Paolo e i due zaini pesano complessivamente 15,5 kg 15,5 kg Se Luca dà a Paolo il suo libro di matematica che pesa un chilo e mezzo è un libro bello grosso lo zaino dell'amico viene a pesare mezzo chilo più del suo quanto pesa inizialmente lo zaino di Luca Vediamo la soluzione la prossima volta Grazie